Noi oggettivamente ci sentiamo in grado di portare a termine questo campionato così come lo stiamo proseguendo, quindi vincendo ogni volta che entriamo in campo. Poi ovviamente ci sono i passi falsi. Questo era uno scontro diretto, noi l'altra settimana abbiamo perso dei punti un po' regalati, un po' dall'arbero, un po' pure da noi dovevamo chiudere la partita, quindi giustamente ora in questo periodo abbiamo quattro scontri diretti consecutivi. Il primo è andato, ora vediamo di vincere anche gli altri. Chiaramente noi un girone è passato, l'abbiamo incontrato tutti, ci siamo resi conto che possiamo andare dove vogliamo, possiamo battere chiunque, poi chiaramente sta a noi metterci l'impegno giusto, la voglia giusta per portare a termine il risultato.